Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Tragedia sul lavoro a Canicattì, operaio di 21 anni, muore schiacciato da un elevatore che stava manovrando. Bimbo morto nel pozzo a Palazzola Creide, ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo, il proprietario del terreno e gli educatori. Ha risposto al GIP ma ha negato la premeditazione, l'uomo accusato di aver ucciso il rivale in amore a Mascali, al baglio degli investigatori il contenuto dei telefonini della vittima e dell'assassino. A Messina torna l'incubo, sete, acqua razionata con turni di tre ore di distribuzione in tutti i quartieri. Aggressioni in pieno centro a Palermo, il prefetto dispone più controlli e presidi fissi delle forze dell'ordine per una movida più sicura. Venti anni fa nasceva a Palermo l'associazione a Dio Pizzo. I manifesti listati a lutto e la rivolta dei commercianti, una mostra per ricordare il risveglio della città. Sherostone e Nicolas Cage tra le star al Teatro Antico di Taormina nella settantesima edizione del Film Festival, diretto da Marco Muller. Prenderà il via il 12 luglio. Calcio, ufficializzati i gironi di Serie C tra le avversarie delle siciliane, anche la Juventus Next Generation. Il Catania pronto a chiudere anche con il portiere Adamonis. Ben trovati, apriamo questa edizione con una nuova tragedia sul lavoro. A soli tre giorni dalla sciagura di Campo Felice e di Roccello, altro tragico incidente sul lavoro. A perdere la vita, questa mattina, in via Vittoria Emanuele a Canicattì, un operaio di 21 anni, Angelo Giardina, morto all'interno di un'azienda di materiale edile, schiacciato da un muletto che stava manovrando. La procura ha aperto un'inchiesta e sta vagliando la posizione del lavoratore. Davide Sarto. Altra morte bianca, l'ennesima che si aggiunge ad un macabro bollettino ormai quotidiano in Italia. Al mattino di oggi, teatro dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro, è stata la città di Canicattì, nell'Agrigentino. È morto un operaio di 21 anni, Angelo Giardina. L'uomo è stato intento a lavorare in un cantiere allestito da un'impresa in via Vittoria Emanuele, nei pressi del cosiddetto ponte obliquo. Il giovane operaio è stato schiacciato da un carrello elevatore, probabilmente in manovra. Ha lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e vigili del fuoco. Presenti anche i sanitari del 118 e un elisoccorso. Indagini sono in accorso. Il giorno dopo la tragedia, Parazzolo piange, il piccolo Vincenzo, morto dopo essere caduto in un pozzo. Era un bimbo buono, dice chi lo conosceva. Indagati il proprietario del pozzo e gli organizzatori del campo estivo. Intanto sono stati sospesi festeggiamenti per il santo patrono, Francesco Aloi. Conoscevamo i genitori, conoscevamo il bambino e quindi ci siamo rimasti come i genitori, i nonni, ci siamo rimasti morti. A Parazzolo a Creide non ci sono parole. La tragedia del piccolo Vincenzo, dieci anni, ha sconvolto tutti. La caduta nel pozzo, profondo 15 metri, gli è stata fatale. Chi che ha bambini sa che cosa significa perdere un figlio. Momento particolare. A tutti è tornata in mente la storia di Vermicino, dove morì il piccolo Alfredino Rampi. Anche lui finì in un pozzo. Fatti difficili da raccontare, soprattutto ai più piccoli. Come si può raccontare questa tragedia ad un bambino? Infatti prima mio figlio Giuseppe mi chiedeva le parole da dire che sono cose che purtroppo succedono nella vita. E non si ci vuole fare niente. Luminari e drappi ricordano che qui si era in festa per il santo patrono. La morte del piccolo però ha decisamente cambiato atmosfera. Quello che noi potevamo fare, anzitutto, è quello di sospendere la festa. Per le vie del centro non si parla d'altro, dal vivo ma anche al telefono. Un progetto di inclusione tra bambini disabili e normodotati, finito nel peggiore dei modi. La donna che ha tentato di salvare Vincenzo è ancora in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto ci sono i primi indagati, il proprietario del pozzo e gli operatori Anfas. L'accusa omicidio colposo. A Catania la polizia ha arrestato un giovane di 21 anni che ha cercato di strangolare e spinto per le scale dopo averla presa a calci e pugni la madre. Prima l'aveva anche minacciata di morte se non gli avesse dato i soldi per la droga. Il figlio è accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Librino su richiesta di una vicina di casa dove la donna, inseguita dal figlio violento, si era rifugiata cercando aiuto. Interrogato a Catania, Gian Piero Blanco, l'assassino del rivale Antonio Raciti. Ha risposto alle domande del giudice, è negato la premeditazione. La fidanzata della vittima aveva una relazione anche con l'assassino. Desiree Ferlito. Ha risposto a tutte le domande del giudice, Gian Piero Blanco, interrogato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. L'uomo, accusato di aver accoltellato a morte Antonino Raciti a Mascali, con il quale si contendeva una donna, ha ricostruito la dinamica degli avvenimenti, negato la premeditazione e fornito sfunti per le indagini. A quanto risulta agli investigatori, l'omicida aspettava la vittima sotto casa, pare per recuperare degli oggetti della ragazza lasciati da lui. Una rivalità accertata, quella tra vittima e carnefice, entrambi a conoscenza della realtà dei fatti, cioè che la fidanzata di Raciti aveva intrapreso da qualche tempo una frequentazione anche con Gian Piero Blanco. La ricostruzione del drammatico delitto partirà dall'esame dei telefoni cellulari della vittima e dell'imputato, che servirà a recuperare anche tutte le chat eventualmente cancellate. Al vaio degli investigatori uno scambio accesissimo di messaggi tra Raciti e la sua ragazza. Il giorno dell'omicidio, molti dei quali cancellati dalla vittima. Blanco si interpone e è disponibile a un confronto con Antonino sulla relazione che ha intrapreso con la ragazza contesa. L'assassino aspettava Raciti sotto casa con l'arma del delitto, che pare non sarebbe una forbice da cucina, ma un attrezzo appuntito e affilato simile a quello usato dai barbieri. E la teneva in tasca. Due ferimenti in Sicilia nelle ultime ore a Palermo. Un uomo colpito da un'arma da fuoco sostiene di non conoscere chi gli ha sparato. A Fontane Bianche è stato accoltellato un ventenne, al culmine di una rissa tra giovani. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. E adesso parliamo di rifiuti. A Catania corsa contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura. Intanto il GIP motiva il provvedimento di chiusura della discarica. Comportamenti afferma procedurali ambigui da parte delle pubbliche amministrazioni. In città non decolla la differenziata da lunedì. Pugno duro contro gli incivili. Tonino De Mano. La catastrofe igienico-sanitaria è stata evitata. Ma basterà un minimo intoppo nella gestione dei rifiuti per scatenare l'inferno e ripiombare nell'incubo. In attesa dei termovalorizzatori, se ne riparliata 3-4 anni, Catania ed oltre 200 comuni della Sicilia orientale vivono nel limbo, navigano a vista e a volte affogano nell'immondizia. Lo stop imposto dal Tribunale di Catania alla discarica di Lentini, le successive ordinanze di Schifani e il conseguente caos sulla raccolta indifferenziata sono l'esempio di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Lo mette nel rosso bianco anche il GIP Stefano Montoneri che nel provvedimento di chiusura del sito di Coda Volpe, ora riaperto, parla di contraddizioni e comportamenti procedurali ambigui e ondivachi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il magistrato fa riferimento anche alla Sicula Trasporti in amministrazione giudiziaria stretta in una situazione paradossale tanto da dover interrompere l'attività per evitare di operare in modo illegittimo. Intanto Catania cerca di ritornare alla normalità con gli autocompattatori che da 48 ore fanno la spola con la discarica di Lentini per smaltire le tonnellate di spazzatura riversate in strada. Per fronteggiare nuove emergenze il Comune ha deciso di utilizzare il pugno duro contro gli incivili. Da lunedì i rifiuti non conformi non verranno più ritirati e i trasgressori saranno segnalati alla polizia locale. La repressione è così l'estremo tentativo dell'amministrazione Trantino per alzare l'attenzione e i numeri della differenziata che sono eseguenti. Lotto Sud gestito da Super Eco 48%, lotto Nord gestito da Eco Car fra 39 e 40%, lotto Centro affidato a Gemma intorno al 30%. Troppo poco. E dopo il Tg alle 14 e 30 su Telecolor sarà nostro ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero Whatsapp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focuschiocciolatelecolor.it. Vi aspettiamo dunque su Telecolor alle 14 e 30 con un'ampia pagina riservata ai vostri messaggi. E andiamo a Messina dove è scattato il piano previsto per il razionamento dell'acqua. Il Comune e l'AMAM hanno ridotto gli orari di erogazione idrica per cercare di risparmiare quanto più possibile ed evitare un pericoloso blackout. Francesco Triolo. Meno acqua per tutti. Dopo Agrigento anche a Messina è scattato il razionamento della distribuzione dell'acqua con una tabella che l'AMAM, la partecipata che gestisce gli acquedotti, ha diffuso con le zone e le ore di erogazione. La riduzione serve a far fronte alla minore portata delle varie fonti alla città. Una decisione che nasce dal voler prevenire una condizione di gravità come in altre parti della Sicilia perché Messina pur non essendo nelle condizioni gravissime nelle quali è per esempio Agrigento e la sua provincia deve avviare le procedure per risparmiare quanta più acqua possibile. Il sindaco Basile si è affidato ai cittadini e ha avuto un uso responsabile. Meno acqua un po' per tutti per evitare che si arrivi al blackout idrico. In alcuni rioni, Castanea, Giostra, Via Palermo e Annunziata arriverà solo per tre o quattro ore, a cinque ore o cinque ore e mezza. Arrivano invece molte zone popolose come il CEP, Villaggio Urra, Minissale e Contessa Sud con una riduzione di due ore. La riduzione di portata più preoccupante è quella legata all'acquedotto della Santissima che è passato da poter erogare 200 litri al secondo in inverno e 150 in estate agli attuali 100. Anche i pozzi cittadini hanno avuto riduzioni del 30-40% ma è la portata del fiume freddo a preoccupare maggiormente calata del 60%. Amam ha chiesto alla regione di poter avere l'autorizzazione a poter abbassare il punto di pompaggio di qualche metro per avere maggiori margini. Momenti di apprezzione nell'ospedale di Acireale dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio nel reparto di ostetricia e ginecologia. I pompieri hanno messo in sicurezza gli ambienti ed evacuato precauzionalmente le persone che si trovavano nel piano che era stato invaso dai fumi prodotti da rogo. L'incendio si è verosimilmente originato da una termoculla. Forze dell'ordine in strada nel weekend, presidi fissi e telecamere per la Movida. Palermo scatta il piano del prefetto Massimo Mariani per arginare gli episodi di violenza nel capoluogo siciliano. Marco Gullà Le ultime aggressioni in pieno centro a Palermo hanno nuovamente accesso i riflettori sulla Movida selvaggia del capoluogo. E da questo weekend, partendo da stasera, scenderanno in campo più pattuglia e ci saranno accurati i controlli per garantire la sicurezza nel quadrilatero del centro storico. A decidero è il prefetto di Palermo Massimo Mariani nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica convocata in prefettura con all'ordine del giorno la questione della violenza nel cuore della città. E poi aumento delle telecamere per garantire almeno 2.000 occhi su tutta la città, compresse le borgate marinare di Mondello e Sfera Cavallo. Episodi di violenza come quello avvenuto sabato scorso non sono tollerabili in una città come Palermo, ha detto il prefetto Mariani, riferendosi all'aggressione subita da un ricercatore palermitano. L'irrobustimento dei controlli e l'aumento delle pattuglie è parallelo anche al flusso di ragazzi che nel periodo estivo ovviamente escono di più. La violenza ormai è dilagante, è dilagante in Bialomia, è dilagante al centro storico, è dilagante il teatro massimo, è dilagante un po' dovunque. Noi comitati ci stiamo facendo rete per cercare di chiedere con forza, stavolta in maniera assolutamente determinata, aiuto e collaborazione soprattutto al prefetto che è colui che si dovrebbe occupare dell'ordine pubblico. La prossima settimana verrà firmato inoltre l'accordo con le associazioni dei commercianti per il collegamento delle videocamere, dei negozi alle centrali operative, delle forze dell'ordine e alla control room della municipale. Il sindaco di Palermo, intanto Roberto Lagalla, dal canto suo replica con le classifiche ribadendo che il capologo è sicuro. I fatti però in questo momento sembrano dire altro. Finita la tornata elettorale, fate tutte le scelte a parte dei deputati eletti a Bruxelles, è tempo di rimpasto nella giunta Schifani e il governatore conferma che entro fine luglio ci saranno novità, ma al tempo stesso si dice deluso da tre assessori e per due di loro ha pesato molto la vicenda e la chiusura della discarica di Lentini. Rimpasto sì, è necessario e si farà entro la fine di luglio, forse anche prima. A bocce ferme, dopo che Tamaio ha deciso di restare in Sicilia lasciando spazio a Caterina Chinnici e a Bruxelles, almeno queste le scelte dentro Forza Italia, adesso è tempo di parlare di rimpasto e lo ammette anche il governatore Renato Schifani. Le scelte le farà lui in autonomia, annuncia Schifani, che manda le prime avvisaglie. Sono tre gli assessori dei quali si dice deluso, Mimmo Turano, assessore della Lega, delegato a istruzione e formazione professionale, che non avrebbe dato seguito agli impegni assunti dall'intero governo della regione, e poi Elena Pagana e Roberto Di Mauro, non tanto per le rispettive attività da assessore, quanto per il mancato coordinamento fra gli uffici del territorio ambiente e dell'energia e rifiuti nella vicenda della discarica di Lentini. Non sono veri e propri avvisi di sfratto, ma segnali chiari. Che con Mimmo Turano non corresse buon sangue era cosa risaputa, Elena Pagana invece lascerà per accordi di partito l'aggiunta, mentre Roberto Di Mauro probabilmente resterà. Certamente ci sarà da sostituire Marco Falcone, che va a Bruxelles, ma Schifani non ha intenzione di far ruotare le deleghe, e annuncia che per il bilancio sceglierà una persona di comprovata esperienza, che non sarà probabilmente Gaetano Armao. Non cambieranno neanche gli equilibri. Schifani continuerà a riferirsi al risultato delle regionali del 2022, quindi il numero degli assessori per ogni formazione politica non cambierà per nessuno, DC ed MPA compresi. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. I manifesti listati a lutto e la rivolta dei commercianti. Addio Pizzo compie vent'anni e realizza una mostra per festeggiare, ricordare il giorno in cui la città si svegliò tappezzata di volantini. Da allora l'associazione ha sostenuto decine di imprenditori che hanno smesso di subire le vessazioni di Cosa Nostra in silenzio e hanno deciso di denunciare. Marco Gullà. Nella notte tra il 28 e 29 giugno del 2004, Palermo, per la prima volta nella sua storia, si risvegliò tappezzata da centinaia di adesivi listati a lutto, con il messaggio Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Sono passati 20 anni da quella data che segna una svolta nella lotta al pizzo e alle estorsioni lanciata da Addio Pizzo. Gli attacchini dell'associazione Antiracket per il ventesimo anniversario hanno deciso di raccontare attraverso una mostra Addio Pizzo 20 la storia e il percorso di cittadinanza attiva. Di indubbiamente quel momento è stato un punto di non ritorno. La comunità palermitana era pronta ad accogliere il messaggio di Addio Pizzo e nulla più è stato lo stesso. Finalmente si poteva parlare del pizzo in modo chiaro, netto. Quell'adesivo ha scosso le coscienze e ha portato ad una rivoluzione che vent'anni dopo vede migliaia di cittadini e di consumatori a sostenere le imprese che denunciano il pizzo. In questa mostra che vedete nelle immagini ci sono foto, video, stampe, disegni originali e articoli di stampa che scandiscono la rottura del tabù e dell'omertà sul pizzo. Il supporto a commercianti e imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare. Per noi è un modo di raccontare, mostrare alla città e anche a chi viene da fuori quello che è stato fatto, quello che è cambiato in questi vent'anni. È una mostra ospitata dalla mafia memorial che ci ha dato un grande aiuto divisa in quattro aree tematiche quindi abbiamo il cambiamento culturale un inizio di cambiamento culturale i commercianti, le denunce abbiamo poi il lavoro nelle scuole e delle scuole e l'inclusione sociale quindi il lavoro direttamente nei quartieri. Premio Cronissi 2024 tra i premiati la collega Lorena Dolci è targa alla memoria al compianto Natale Bruno Lorena ha raccontato il caporalato a Paternò e la condizione dei braccianti sfruttati nelle campagne Natale è stato ricordato per il suo costante impegno nella cronaca giudiziaria. Sharon Stone e Nicolas Cage sono solo due dei grandi nomi del cinema internazionale che saranno presenti al teatro antico di Taormina nella settantesima edizione del Taormina Film Festival diretto da Marco Müller sarà un'edizione che coniuga adivismo, hollywoodiano dimensione umana e sguardo sull'altrove Roberta Lunghi dall'avventura action al thriller psicologico dall'horror alla romantic comedy al cinema civile con una parata di star internazionali Sharon Stone e Nicolas Cage e poi Bella Turner e Rebecca De Mornay per citare alcuni nomi Sono alcuni dei fili che il direttore del Taormina Film Festival Marco Müller, già otto volte alla direzione della Mostra di Venezia ha scelto di intrecciare nel concepire il programma della settantesima edizione del festival dal 12 al 19 luglio presentata oggi a Palazzo Corvaia Taormina divismo hollywoodiano dimensione umana e sguardo sull'altrove coniugato con la volontà della fondazione Taormina Arte con il neocommissario Bonomo e la direttrice artistica Gianna Fratta di tingere di mille colori l'estate taorminese lo start è il 12 luglio dedicato all'evento speciale dei nastri d'argento in un omaggio alla commedia italiana grandi protagonisti al teatro antico Christian De Sica e Carlo Verdone il cuore del Taormina Film Festival è il Galà che ospiterà sette titoli tutte le sere al teatro antico fra cui ben quattro prime mondiali e opere prime e seconde si parte il 13 luglio con l'horror statunitense St. Clair con Bella Thorne tra gli altri titoli anche il thriller psicologico The Surfer con Nicolas Cage e il giudice e il boss dedicato alla memoria di un eroe dell'antimafia come Cesare Terranova grazie all'impegno della direttrice artistica della fondazione Taormina Arte Sicilia il maestro Gianna Fratta accanto alla rassegna cinematografica vive un'iniziativa parallela proiezioni, suoni e parole prima del film conto alla rovescia innescato dunque per il Taormina Film Fest promosso e organizzato dalla fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno dell'assessorato al turismo dello sport e dello spettacolo della regione siciliana della Sicilia Film Commission del comune di Taormina e del Ministero della Cultura certi che saranno otto intensi giorni di emozioni di grande cinema sotto le stelle e adesso ancora una pausa e poi parleremo di calcio di calcio mercato a tra poco ed eccoci al calcio ufficiali gironi della prossima Serie C nel gruppo meridionale ci sarà la Juventus Next Generation per il mercato in casa Catania dopo Carpani in arrivo il portiere Adam Onis sentiamo Marco Carli la Juventus Next Gen è la squadra inserita nel girone meridionale della Serie C il sorteggio ha stabilito così nelle prossime tre stagioni ci sarà una rotazione delle tre under 23 dunque nel girone C ci sarà una delle altre due o eventuali nuove squadre B che potranno essere un massimo di sei due per girone ma concentriamoci su quest'anno girone C dunque con tutte le meridionali e i bianconeri si avvicina l'apertura ufficiale del calcio mercato fissata per lunedì ma il Catania è già protagonista sulle pagine social del club pubblicato un video con i gol di Carpani il primo acquisto del nuovo corso firmato Fagiano alcuni dei gol tanti 20 segnati con la Re Canatese negli ultimi due anni che dimostrano le qualità del giocatore per il Catania ci sarà anche un nuovo portiere Adam Onis lituano quest'anno al Perugia di proprietà della Lazio con trascorsi fra le alte nella Salernitana e nel Catanzaro in attacco il nome del momento è quello di Rescano della Triestina con un passato nel Pescara e anche in Sicilia la Leonzio in casa Messina sancito ufficialmente il vincolo con Modica la prossima settimana si dovrebbe capire se ci saranno novità a livello dirigenziale con l'ingresso di nuovi azionisti di maggioranza da lì dipenderà tutto il resto in casa Trapani c'è ottimismo abbiamo già l'80% della squadra fatta svela l'allenatore Torrisi alcuni nomi noti come quelli di Fall di cui vediamo alcuni gol con la Gianerminio Kingudo e Seculin sono ottime basi di partenza a Messina a Torrefaro le finali di Coppa Italia di Beach Soccer ieri gli ottavi che hanno visto passare le due squadre catanesi oggi si giocheranno nel pomeriggio i quarti Francesco Triolo la riserva naturale di Capo Peloro sullo sfondo e lo stretto di Messina dall'altra parte è questo lo scenario che ha fatto da cornice alle partite degli ottavi di finale della Coppa Italia di Beach Soccer manifestazione che si è aperta ieri al Beach Stadium Torrefaro le otto qualificate hanno vinto senza troppi patemi a conquistare i quarti che scatteranno nel pomeriggio anche il Catania FC che ha vinto a tavolino per assenza di chiave e la Domus Bet Catania che l'ha spuntata alla distanza davanti ad un ottimo Terracina che ha tenuto bene per larghi tratti della gara prima di arrendersi per 6 a 2 bene il nuovo innesto brasiliano Caiche che ha giocato la sua migliore partita in Italia firmando una tripletta l'altro verde oro Catarino ha puntellato il risultato Perciamontani con due colpi nel terzo tempo ha messo in cassaforte la vittoria il Catania FC affronterà il Pisa alle 19.45 il conto dei precedenti è di 6 a 1 per i toscani mentre alle 21 la Domus Bet Catania affronterà la San Benedettese un classico del beach soccer tra due squadre da sempre protagoniste le semifinali sono previste per domani sera la finalissima domenica con diretta su DAZON Ci fermiamo qui è tutto per questa edizione di Sicilia 24 grazie per averci seguito buon poveriggio